Ti hai trovato qua, a Verona? E perché io non lo so? Hai fatti due domande Quindi cosa canti? Fai una cosa, posso presentarlo? Sì, ma magari un applauso fatemelo, no? Dopo l'applauso di Ignazio, per Ignazio, è il momento di presentare il prossimo ospite Per duettare il prossimo brano avevo bisogno di una voce particolare, molto distante dal mondo classico Tanti aggettivi potrebbero descrivere la voce del prossimo artista Forse l'aggettivo che si addice di più è unica, una voce unica Signore e signori, per me è un grande onore Invitare sul palco Mario Biondi Ma che bello essere qui Pensa se riesco anche a scendere tutti i gradini Buonasera, buonasera a tutti Un piacere, è un privilegio ovviamente per me Essere qui Vedo che sentivo un po' di umilità dietro effettivamente Sei pronto Mario? Non lo so, però ci provo Perché mi volete mettere alla prova su cose abbastanza impegnative e difficili Ma lotterò per dare il mio meglio Maestro? Pensa se riesco anche a scendere 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.